La tradizione degli studi italiani risale ai primi dell'Ottocento qui a Brown. La cultura italiana ha ormai una dimensione globale e i nostri dottorandi provengono un po' da tutto il mondo, anche dalla Cina, ma la maggior parte naturalmente dall'Italia e dagli Stati Uniti. Sono molti i docenti della Brown University che hanno radici in Italia. Molte personalità di spicco della cultura italiana hanno trascorso in anni recenti i periodi di insegnamento qui alla Brown University, per esempio Romano Prodi. I nostri studenti hanno la possibilità di trascorrere un semestre o un anno accademico presso l'Università di Bologna. Il nostro programma di studi italiani si distingue per la sua impostazione interdisciplinare. A 250 anni dalla sua fondazione, la tradizione degli studi italiani è più fiorente che mai qui alla Brown University.